Oggi faremo virtualmente due viaggi, uno insieme a Dante e Virgilio negli inferi, l'altro invece insieme al Presidente della Commissione Cultura del Campidoglio, benvenuto, ben trovato Federico Mollicone in Cina. Ho aperto così ma è un argomento tutto da spiegare il nostro questa sera. Insieme a Roma 1 con il patrocinio della Commissione Cultura del Campidoglio si è tenuta ad agosto l'inaugurazione di un'opera colossale, si tratta dell'opera L'inferno di Benedetto Robazza, è stata portata in esposizione in Cina, l'allestimento a Wenzhou rimarrà fino al 30 settembre. Possiamo intanto vedere le immagini di quest'opera colossale, un'opera grandiosa, ci sono voluti più di cinque anni di lavoro per realizzarla, questo è un momento della conferenza di presentazione del primo giorno di apertura della mostra, la vediamo con la fascia tricolore, Presidente, e queste sono le immagini della mostra. Noi si tratta di un'opera di 90 metri quadrati in marmoresina, il maestro Benedetto Robazza chissà se in questo momento ci sta seguendo, qui siamo al Museo d'Arte Contemporanea Art Center 7 di Wenzhou nel sud-est della Cina, la mostra è stata allestita su 500 metri quadrati e da qui poi la mostra proseguirà in tutte le principali città della Cina per un tour mondiale. Sono 18 pannelli in marmoresina che così trasportano in modo fedele in materia quello che è raccontato nei 34 canti danteschi, è un continuum di sculture in alto rilievo per una superficie di 90 metri quadrati, i pannelli sono alti 2 metri, un impatto visivo veramente imponente da quando Dante scende negli inferi a quando esce. Ci sono tutti i personaggi, i momenti che vengono raccontati nella Divina Commedia. Presidente, a lei il commento sull'opera e perché avete deciso di patrocinarla? Innanzitutto l'opera è un'opera grandiosa, simbolica dell'identità italiana nel 150esimo anniversario. Sappiamo che Dante è un architrave della nostra identità, per cui ci è sembrato simbolicamente corretto portarla in Cina proprio nell'anno di amicizia tra l'Italia e la Cina. Quindi nel contesto di questa cornice di rapporti bilaterali tra l'Italia e la Cina è nata questa operazione. L'operazione, ringrazio Roma 1 per averla prodotta e promossa, che ha dato la possibilità a Roma Capitale di far capire quale deve essere il rapporto positivo che ci deve essere tra il popolo cinese e la capitale. Noi abbiamo saputo, abbiamo letto, abbiamo visto non solo a Roma Capitale ma anche in altre città italiane alcune volte si creano degli attriti nella presenza dei cinesi in Italia. Invece con iniziative culturali come questa, con la stima che c'è tra la grandezza e la profondità delle due culture, entrambe millenarie, si può ristabilire un rapporto corretto. Vedete Robazza, il maestro Robazza ha un'altra particolarità oltre a quella di essere un grande artista e di avere opere in tutto il mondo, compreso la Casa Bianca, è quella di essere uno scultore che ha il suo studio all'esquilino e quindi anche questo è un'altra simbologia, una sorta di ritorno in Cina, proprio nella città da cui provengono, da cui proviene il 90% dei cinesi che sono a Roma e in Italia. Quindi ci è sembrato anche questo un risvolto ulteriore sociale e culturale da sottolineare. Un patrocinio fatto con convinzione, portato con convinzione, è vero che è stato rappresentato a nome del sindaco e non soltanto dell'Assemblea Capitolina e ho portato la fascia appunto per rappresentare e portare il saluto dell'amministrazione. Una curiosità, avevo detto culturale millenarie ma anche molto distanti tra loro. I cinesi conoscono Dante? Sì, assolutamente. Siamo rimasti sorpresi dalla grande conoscenza che avevano di Dante, della Divina Commedia e della passione con cui seguivano la narrazione visiva del maestro Robazza rispetto a quelli che sono i canti dell'Inferno, che è forse la parte più suggestiva della Divina Commedia. Ecco qui vediamo, l'interrompo, un bambino perché c'è questa appunto capacità espressiva di Robazza che è in grado di coinvolgere un po' tutti, dall'adulto. Assolutamente, di fatto per come era allestita l'opera, anche grazie alla colonna sonora, le basi musicali composte appositamente dal maestro Aglio Polizzi. Esatto, di fatto è un'opera multimediale perché l'alto rilievo e il marmo resina danno già questo impatto visivo molto forte perché sono sculture, quadri allo stesso tempo. In più con la musica composta facilita appunto anche l'interesse, abbiamo visto, dei bambini ma c'erano molti ragazzi ed era stata veramente una bella esperienza per capire quanto gli altri popoli siano attenti alla nostra cultura e quindi nel 150esimo anniversario d'Italia è importante, secondo me abbiamo fatto un'iniziativa che è di rispiro nazionale, non solo cittadino. Un commento personale, quale personaggio le piace di più? Quale è rappresentato, insomma, con più efficacia nell'opera? Beh, sicuramente il conte Ugolino, che la bocca sollevò dal fiero pasto e poi sappiamo rappresenta anche il personaggio in cui si è rappresentato anche il maestro. Lì c'è proprio la sua firma. Sì, è sicuramente il personaggio che più colpisce anche per la storia. Ce ne sono tanti, è lo stesso Virgilio, è questa visione della guida spirituale che è sempre presente in Dante. È un'opera sicuramente che ha più livelli di lettura esoterici ed esoterici, quindi è bella riscoprirla ogni volta. Prego ora la regia di mandare in onda all'altro contributo, che fa riferimento al trasporto dell'opera, perché non è stato affatto facile riuscire a portare un'opera così pesante, ingombrante, fino in Cina. Qui vediamo un momento in cui l'opera è già, diciamo, su terra, però parte del viaggio è stato compiuto in nave. Ed è stato, sì, dicevamo, molto complicato. So che lei, insomma, in qualche modo è stato partecipe delle difficoltà. Quando siamo arrivati il giorno precedente c'era stata una forte pioggia, quindi c'era anche il dubbio che non si facesse in tempo. Poi invece, grazie al lavoro dei ragazzi, della Galleria Tartaglia, degli altri ragazzi che hanno seguito l'opera, è stato possibile allestirla. Volevo leggere ora una citazione, una dichiarazione del maestro Robazza, che spiega un po' i motivi della sua opera, che cosa l'ha spinto a creare l'inferno in alto rilievo. Dice, quando ho iniziato a lavorare all'inferno volevo fare qualcosa di grande per l'Italia, per esaltare la sua cultura millenaria. Dante, con la sua opera rappresenta per me la parte più alta del genio italiano, una poetica ispiratrice, fonte di crescita interiore come artista e come uomo. Per questo, anche oggi che le mie sculture si trovano in tutto il mondo, considero l'inferno la mia grande impresa per l'impegno che ha richiesto e anche per il suo significato. È quello che dicevamo un po'. Senza saperlo, il significato ovviamente non poteva che essere quello. Ma poi il maestro Robazza ha molto forte questo stema dell'identità e anche il fatto stesso del materiale che usa. Adesso qui è marmoresina, ma in altri casi è proprio marmo. Non è facile trovare uno scultore bravo del marmo, quindi anche questa è un'arte antica, che è sicuramente che lui porta avanti in maniera prestigiosa e importante. Tutto era iniziato qualche anno fa e lo scorso anno c'è stato un altro allestimento a Castel Sant'Angelo, davanti al pezzale, davanti al castello. Anche lì ci fu grande successo di pubblico, tantissimi i visitatori. Ci fu un'inaugurazione meno fortunata sotto la pioggia. E' stato un diluvio universale, c'è un clima dantesco, perché all'improvviso c'è stato un diluvio, però a parte l'inaugurazione poi c'è stato un grande successo, anche lì circa 22.000 persone sono passate dall'esposizione e il fatto che sia stato concesso un luogo vicino al Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, dalle sovrintendenze, dimostra anche la sensibilità e l'attenzione per l'importanza di quest'opera. Tra il Vaticano e Castel Sant'Angelo, molto significativo come luogo. Torniamo alla Cina. Il sole è stato un viaggio mirato, però avrà avuto modo di vedere, di osservare, di conoscere, di parlare con i cinesi. Quindi, secondo lei, cosa abbiamo da imparare da loro in questo momento di difficoltà per l'Italia, per l'Europa e di grande sviluppo invece per la Cina? Uenzò è una città industriale, una delle più industrializzate. Sicuramente la grande capacità operativa. Mi racconto un aneddoto. Avevo dimenticato, durante il viaggio si erano persi i biglietti da visita, che lì poi si sa in particolare hanno un significato particolare, sono molto importanti perché c'è un cerimoniale molto sentito. Lo dò di notte a uno di questi ragazzi e il giorno dopo, alle 7 di mattina, erano già pronti. Perfetti, fatti, quindi neanche la curiosità di sapere dove l'abbiano stampato. Quindi hanno una capacità operativa molto pronunciata. E soprattutto un'umiltà, perché hanno un'umiltà di chi sa qual è il significato del lavoro. E quindi a tutti i livelli, dal ricco imprenditore e a Uenzò è una città molto ricca. Ci sono molte, lo si vede dagli indicatori di benessere, ci sono molte auto sportive, molte Ferrari. Però vedi anche tanta gente, tanto popolo, che lavora in maniera anche nei lavori più umili, con grande dignità. E questo è un segno che magari ci fa anche rivedere alcuni nostri giudizi o pregiudizi rispetto alla Cina. Detto questo, io ribadisco, l'ho detto anche alle autorità locali, che queste iniziative, al di là del culturale, devono servire a creare dei rapporti positivi anche per quanto riguarda la presenza cinese a Roma e in Italia. Perché in particolare a Roma, purtroppo, non per volontà di chi viene qui per lavorare, ma si creano delle situazioni di monocultura cinese. Che è sbagliato, tant'è vero che, sempre per raccontare un altro aneddoto del viaggio, che è stato molto importante, abbiamo incontrato un imprenditore di Prato cinese, un giovane imprenditore di Prato cinese, che parlava fiorentino, parlava toscano. E lui ci ha detto, in maniera critica, l'errore che fanno, quindi detto da un cinese, l'errore che fanno le nostre comunità è che quando vanno all'estero si chiudono e costruiscono un circuito impermeabile, economico, sociale, anche sanitario, sociale in generale. Per cui poi non c'è contaminazione. Poi è vero che i cinesi vanno a scuola, i bambini cinesi, trovi i bambini cinesi che parlano romano, di seconda generazione, però la struttura della comunità cinese non si spende i soldi all'interno della comunità, difficilmente si integra nel tessuto sociale e economico. E lo scambio culturale può rappresentare un veicolo sociale? Secondo me sì, io l'ho inteso così, nel senso che ribadisco in maniera coerente le situazioni critiche rispetto alla presenza cinese a Roma quando questa tende a isolarsi, quando invece se fosse diffusa e non concentrata in un unico quartiere, come purtroppo è a Roma con l'Esquilino o a Prato con le altre zone, centrali, se invece si integrasse sicuramente ci sarebbe un rapporto più positivo. Queste iniziative servono a questo, a superare i pregiudizi, a cercare di far capire che non c'è nessuna preclusione, ma che ci deve essere uno scambio che rispetti sempre la città dove uno decide di lavorare e vivere. Grazie. Grazie.